buongiorno buon sabato mattina ben ritrovati per la rassegna stampa che come ogni mattina apre la finestra informativa di fano tv occhi giornali 7 30 siamo in diretta come sempre i giornali sono pronti però procediamo con ordine come sempre guardiamo l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo allora oggi sabato 29 ottobre la chiesa osserva la beata chiara luce badano il sole è sorto alle 7 38 e tramonterà alle 18 e 05 bene archiviato l'almanacco del giorno passiamo alle previsioni del tempo guardiamo un po uno spettro che va insomma da oggi fino a martedì così vediamo anche com'è in prospettiva il lungo ponte dei dei morti così definito per oggi comunque vedete anche dalla simbologia della cartina molto eloquente sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione e le temperature sono stazionarie tutto sommato la stessa cosa è anche per la giornata di domani compaiono però come vedete probabili foschie e nebbie nella serata vedete nel centro della regione nelle zone interne e quindi insomma questo è un fenomeno da tenere presente soprattutto per chi si sposta in serata ecco vedete o in prima mattina naturalmente e previsioni per lunedì quindi l'inizio della settimana il giorno la giornata del del ponte anche qui sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione però compaiono sempre foschie e banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata quindi le ore diciamo quelle nelle prime fasi del giorno e quelle della sera e della notte allora tendenza però nei giorni successivi quindi vediamo anche cosa succede mercoledì primo novembre probabile tempo stabile sulle marche anche nella giornata appunto dei di mercoledì a seguire però ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche quindi tutto sommato in questo ponte il tempo dovrebbe essere diciamo usiamo il condizionale tendente al bello quantomeno tante occasioni poi ci sono come dico sempre anche nel fine settimana per passare qualche ora in qualche evento in qualche manifestazione un qualche mostra ci sono anche opere d'arte che sono giunte qui dalle nostre parti penso a senigallia con quelle dipinto di leonardo da vinci molto bello non lasciatevelo sfuggire allora guardiamo i giornali partiamo dal corriere adriatico che come fatto in questi giorni ha messo in apertura il terremoto e questa è la pagina che vi faccio vedere quella di apertura che appunto titola rivolta di viso perché rivolta di viso perché gli abitanti hanno in una rovente assemblea sono contro i trasferimenti mai via da qui ed è insomma comprensibile si teme appunto per gli oggetti che sono all'interno delle case che sono crollate insomma e nessuno vuole lasciare il posto dove abita poi l'orgoglio di camerino siamo più sicuri che a roma camerino era venuta giù quel campanile a ridosso di quella casa sfiorati sfiorata la tragedia per veramente pochissimi minuti sibillini in pericolo c'è un brand da 300 milioni per naturalmente tutto il turismo che viene meno e insomma all'interno tante tante notizie guardiamo partiamo da quelle del del terremoto no all'esodo degli studenti no degli studenti si accende la rabbia di viso scuola antisismica arretto alle scosse a assemblea infuocata dei genitori se ce ne andiamo negli alberghi questo borgo non rinasce e vedete qui insomma i tutti i numeri dell'emergenza chiaramente le due facce del del terremoto insomma tra il prima e il dopo sono riportate ampiamente nelle pagine del corriere adriatico con i diversi pareri e ancora tra sisma e mare la grande fuga ora viaggia in bus sono 583 i pendolari che dormono sulla costa e che vanno avanti e indietro vedete qui un uno sfollato aiutato da un vigile del fuoco a trasportare le sue le sue cose e quindi questo è l'aspetto che vi dicevo le due le due anime di questo di questo stesso sentimento qual è qual è in questa pagina sono riassunte molto bene se andiamo via molte famiglie si divideranno quindi chi è pro e chi è contro e però l'incubo scosse sta divorando ci sta divorando meglio scappare l'albergatrice linda piccinini ora è a civita nova il mio hotel è inagibile un giorno però lo riaprirò insomma sono tante le testimonianze riportate nelle pagine delle marche del corriere adriatico andiamo però in quelle di pesaro veniamo alla cronaca e agli eventi locali l'adrinazione razziano ampiamente da empam e da ant ma sono gentili però con i gattini furto nella notte in corso 11 settembre hanno rubato soldi però ignorano i farmaci per i piccoli amici ancora 118 i medici sono un po in agitazione sul piede di guerra sono i medici dell'emergenza che vogliono giustamente essere trattati come tutti i colleghi sit in davanti alla regione basta discriminazioni diritti calpestati da tempo a palazzo raffaello da palazzo raffaello arrivano promesse però che sono state disattese e questo il loro pre la pagina di fano del corriere adriatico insomma un incidente domestico però con conseguenze catastrofiche per chi lo ha subito l'odissea di un pensionato ex nazionale di atletica potevano però accorgersi prima perché insomma adesso se leggete l'articolo lo capirete scivola in casa si rompe il tendine è stato dimesso a pesaro e operato a parma c'è una foto eloquente che mostra insomma lo stato del suo ginocchio però non era possibile operarlo dice il direttore sanitario di marchenordi prassi giusta perché il ginocchio era troppo gonfio e quindi insomma è andato ad operarsi a parma le opere compensative della terza corsia ecco qui insomma tutto l'importo 63 milioni la firma a tre con autostrade per l'italia quindi provincia regione e comuni eccoli qui che naturalmente sottoscrivono l'accordo che riguarda appunto fano ancora da fano è una piaga è una piaga dei giorni nostri è una tragedia anche sociale il gioco d'azzardo quello patologico non quello naturalmente così sporadico e la dipendenza da questo hanno creato tragedie familiari e anche a fano si verificano episodi di questo tipo addirittura una mamma mentre gioca alle slot machine talmente presa quasi una trance di gioco abbandona per un'oretta le figlie all'interno del bar disinteressandosene completamente arrivano gli agenti di polizia che fanno dei controlli hanno fatto tanti controlli in queste settimane negli esercizi pubblici e la trovano lì completamente in trance la bimba di tre anni le ritirava le monotine e l'altra di un anno dormiva nel passeggino ma lei era completamente assorta dal gioco è stata segnalata al tribunale dei minori di ancona la valle del cesano che cosa ci propone ciclopedonale siamo nella zona di san sebastiano da nel tratto che va da cento croci appunto fibra ottica e ciclopedonale aperto il primo e atteso cantiere naturalmente vedete qui l'assessore con un volto sorridente per la firma lucia catalani in alto il cantiere vedete qui alle sue spalle aperto aperto ieri siamo a mondolfo bene ancora nella val cesano fiere nasce il colosso di marzotto c'è un fanese ai piani alti della iegi carlo costa nominato vice direttore del generale dell'italia exhibition group eccellenze quindi territoriali e imprenditoriali andiamo a senigallia limitro a senigallia qui non mancano i parcheggi anche per andare in chiesa la rivolta dei fedeli olivetti dice la soluzione sarebbe nel reparto mobile siamo naturalmente a ridosso della piazza ancora da senigallia pugno duro pugno duro dei docenti sull'uso dei cellulari andiamo a scuola e quindi insomma per limitare per contenere l'uso dei cellulari degli studenti in classe i docenti mettono giù la linea dura corinaldesi e marchetti sequestrati i telefonini accesi e puniti gli studenti quando si va a scuola quando si va a scuola ragazzi si va a scuola insomma quello quello si deve fare altre distrazioni non vi servono concentratevi su quello che dicono i professori pagina di pesaro del resto del carlino fotonotizia ancora una proposta del sindaco ricci una proposta così che farà sicuramente discutere l'idea del sindaco è quello di trasformare in turisti le 600 mila recute che in 44 anni hanno fatto l'addestramento militare a pesaro e quindi richiamo alle armi ma non insomma in quel senso poi bella pagina di insomma di senso civico e solidaristico trova 3.900 euro nel bagno del reparto reparto di pediatria e li restituisce erano di una famiglia francese e poi evacuazione al mamiani ma è soltanto una simulazione e infatti vedete studenti fuori vi faccio vedere la pagina che riguarda questo episodio è una simulazione proprio in virtù anche di quello che è accaduto all'edificio del mamiani è solito il preside lisotti mette in guardia dalla disinformazione sulla rete perché come sempre qualche buon tempone scambia certe cose per altre la rete non è la realtà la realtà è altre cose l'allarme sulle crepe però chiaramente non c'è nessuna emergenza nella nostra scuola per insomma in conseguenza del sisma come in tante altre strutture quelle che ci sono non sono sicuramente preoccupanti insomma questo è anche perché nella mattinata di post terremoto appunto per le scuole chiuse sono state fatte verifiche visive insomma da parte dei tecnici in tutte le scuole per verificare se ci fossero situazioni critiche parliamo di lavoro si parla di lavoro nelle pagine del resto del carlino un autunno caldo sul fronte appunto dell'occupazione si risvegliano gli operai del legno sciopero e comizio per il contratto davanti alla sede di confindustria in via catania un contratto che tarda ad arrivare secondo appunto cgl che dice giustamente insomma il contratto scade vogliamo certezze da questo punto di vista anche qui nella pagina di fano ripresa la notizia del della mamma in trans per il gioco vedete nel riquadro il dirigente del commissariato di fano stefano seretti che ha diretto tutta un'operazione mirata al controllo dei locali pubblici oltre 70 persone sono state controllate e identificate insomma c'è stato anche qualche arresto e questo è sicuramente uno degli episodi più più eclatanti di di questa di questa operazione trascura le figlie dice insomma con quasi ingenuità sono solo qui da un'ora la mamma è stata segnalata al tribunale che valuterà la sua capacità la sua capacità genitoriale e poi a gimarra andiamo a a gimarra nei cantieri insomma eternamente aperti e mai finiti operazione gimarra percorso in salita fondo cives anti acquirente il fondo cives acquirente offrirebbe 3 milioni per rilevare appunto tutti gli edilizzi insomma gli appartamenti gli edifici che non sono stati completati nuova banca marche però ne vorrebbe sei e mezzo quindi siamo molto lontani e poi fusione ok all'incorporazione che porta all'azienda unica dei servizi seri e risparmi dice il sindaco per 3 milioni la presidente della holding però non non vota l'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del carlino andiamo appunto nella val cesano era stata ritrovata anche nei giorni scorsi e rispuntata un'altra bomba appartenente sicuramente la seconda guerra mondiale in un campo stavolta siamo a serrungarina però insomma il big ben quindi la faranno brillare questo è l'altro ordigno però dopo il la festività insomma la ricorrenza dei morti otto giorni potrebbero brillare tutti insieme appunto gli otto ordigni sono otto quelli che sono insomma in stato di di attesa per essere per essere neutralizzati potrebbero brillare tutti insieme il 3 novembre gli artificieri attesi al ponte dell'acqua santa per giovedì prossimo per questa operazione in sicurezza bene grazie per essere stati con noi io mi fermo qui termina la rassegna stampa del sabato l'ultimo della settimana e quindi torneremo lunedì mattina puntualmente alle 7 30 per occhio ai giornali buon fine settimana e buon ponte se lo fate a tutti voi grazie a tutti